Non hai ancora scelto il tuo regalo quest'anno? In Valle del Serchio c'è un luogo in cui si avverano i tuoi desideri. Quel luogo è Fornacci di Barga. Qui trovi tutto ciò che desideri. 50 negozi per te e per la tua famiglia. Lasciati avvolgere dalla magia del Natale. Christmas Village è qui, a Fornacci di Barga. Christmas Village